Ho recuperato uno dei cartelli che avevano strappato nella zona di Sussia, l'ho trovato giù nella valle, 100 metri sotto il sentiero. Hanno fatto un po' di disastro e hanno distrutto tutta la segnaletica strappando bellocchi di cemento e pali, quindi qualcuno che probabilmente aveva le chiavi poteva arrivare fino a lì con dei mezzi. Civiltà 2022.